Chi ha inventato l'orologio? I nostri antenati osservavano il cielo per scandire le ore e il passare del tempo. Ma con il progredire della civiltà ci fu sempre più l'esigenza di conoscere l'ora esatta. Gli antichi egizi sfruttavano l'ombra prodotta dal sole per sapere se era mattino o pomeriggio e per tenere traccia dei solstizi d'estate ed inverno. Questo orologio primitivo si è evoluto successivamente nella meridiana. Più o meno nello stesso periodo, i babilonesi usavano orologi ad acqua per conoscere l'ora, misurando la quantità d'acqua che fluiva da un contenitore a un altro. Questa tecnologia costituirà la base della clessidra. Poi ci sono stati gli orologi a incenso, che bruciando bastoncini di incenso o incenso in polvere potevano indicare l'ora anche in base ai diversi profumi da essi prodotti. L'invenzione del sistema di scappamento a verga, che permette agli ingranaggi di avanzare a intervalli regolari, chiede il via all'era dell'orologio meccanico. Dai un'occhiata agli altri video e iscriviti a Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.